benvenuto nando pagnoncelli buonasera presidente ipsos è sempre con noi la professoressa e laria capo dal centro di eccellenza della florida bentornata professoressa allora guardi un po professoressa cosa pensano gli italiani cosa abbiamo domandato questa volta nei sondaggi nando pagnoncelli abbiamo innanzitutto chiesto chi vorrebbero dopo draghi alla guida del paese lo vediamo col cartello 1 è una domanda che avevamo posta anche due settimane fa i risultati sono sostanzialmente simili sebbene rilevato su due campioni diversi 40 per cento vorrebbe Enrico Letta e Giuseppe Conte 35 per cento Salvini e Meloni 25 per cento non si esprime un dato che un po sorprende perché il centrodestra è avanti negli orientamenti di voto ma Letta e Conte rappresentano un po più una novità per certi versi e viceversa si teme alcuni temono che Salvini e Meloni possono essere in forte competizione tra loro. Poi c'è il tema della leadership all'interno degli schieramenti se ce li dai tutti quelli che abbiamo sondato prego Nando sì innanzitutto abbiamo chiesto chi preferisce come leader politico tra Conte e Letta lo vediamo col cartello 2 39 per cento preferisce Conte 22 per cento Enrico Letta 39 per cento non si esprime perché appartiene ad altre aree politiche poi vediamo invece all'interno dei leader del centrodestra scusate con il cartello 3 chi preferisce tra Meloni e Salvini come leader politico lo vediamo appunto 28 per cento Meloni 23 per cento Salvini qui un italiano su due non si esprime e poi da ultimo abbiamo chiesto chi tra questi leader respira più fiducia ovviamente una scelta secca quindi dovevano scegliere un solo esponente lo vediamo con il cartello 4 primo posto Giuseppe Conte col 22 poi Meloni e Salvini col 12 Letta col 10 Berlusconi 8 Speranza 4 anche questo stupisce perché è il ministro più popolare ma era assicurante come ministro ma in realtà non è conosciuto come leader politico e 2 per cento Renzi ma 30 per cento non si esprime allora passiamo dai temi cari alla professoressa Capua quanto preoccupa gli italiani il contagio e continua a preoccupare noi lo rileviamo pensate stabilmente diciamo dalla metà del febbraio dello scorso anno ad oggi diciamo il dato più recente lo vediamo con il cartello numero 5 c'è una preoccupazione che riguarda appunto la minaccia personale che tocca quasi un italiano su due 46 per cento pensate siamo tornati più o meno ai valori di novembre e nelle ultime cinque settimane questo indicatore continua a crescere poi però quasi due su tre sono preoccupati per il possibile contagio dei propri cari della zona di residenza delle persone che conoscono il 78 per cento tre italiani su quattro sono preoccupati per un possibile contagio del paese professoressa questa è lucidità o paura lei ha parlato spesso della fatica da pandemia non fa perdere la lucidità probabilmente se questa è ecco io trovo questi dati incoraggianti perché sono dei dati di grande consapevolezza ed è di questo che abbiamo bisogno abbiamo bisogno di capire che il virus ancora circola circola in maniera attiva e abbiamo la variante inglese e quindi il fatto che i dati ci indicano che le persone hanno capito che una parte della soluzione dipende da loro e quindi attraverso diciamo la preoccupazione che ovviamente stimola riflessione io credo che sia anche questo che ci porterà fuori dall'emergenza più persone si comporteranno in maniera adeguata e prima facciamo venirne fuori e quanti di questi nando pagnoncelli intendono vaccinarsi interessante vedere il dato con il cartello 5 lo vediamo più di un italiano su due intende vaccinarsi il 52 per cento desidero ricordare che proprio qui a dimartedì a metà novembre avevamo fatto la stessa identica domanda è il cartello numero 6 scusate e appunto avevamo un 37 per cento che dichiarava di volersi vaccinare senza indugio è aumentato di 15 punti in questo lasso di tempo prima prevaleva la risposta che vediamo al secondo posto non sono sicuro di volerlo fare vogliono attendere per capire l'efficacia o valutare gli effetti collaterali eventualmente questa era la risposta prevalente a metà novembre è scesa di 15 punti 28 per cento e poi coloro che dichiarano di non volersi vaccinare sono un italiano su 10 grossomodo allora professoressa togliamo i dubbi agli italiani i dubbi più comuni allora mi chiamano per astrazeneca meglio aspettare il prossimo risposta sbagliata perché i vaccini funzionano tutti quanti nel proteggere dalla morte dalla malattia grave nel 100 per cento dei casi io credo che bisogna fare cioè accanto all'operazione di consapevolezza di prima dobbiamo renderci conto che questi non sono risultati scontati cioè i vaccini che sono stati prodotti in emergenza stanno funzionando benissimo quindi siccome tutti i vaccini sono uguali dal punto di vista della protezione dalla malattia grave non ha importanza quale vaccino si fa bisogna fare il vaccino che arriva prima nel braccio altro dubbio ma io mi faccio il vaccino poi magari c'è una variante nuova il vaccino non mi protegge che me lo sono fatto a fare risposta sbagliata perché i vaccini che noi abbiamo adesso registrati negli negli stati uniti e in europa proteggono contro tutte le varianti che abbiamo adesso che circolano sul territorio non tutti quelli che vengono colpiti dal covi danno sintomi o malattia in forma grave qualcuno pensa tutto sommato sarò già immune o non ho avuto già grandi problemi perché mi dovrei vaccinare perché se sei una persona al di sopra di una certa età il rischio che tu possa sviluppare la malattia grave e finire in ospedale è un rischio significativo quindi è molto più rischioso prendersi il covi che vaccinarsi resti con noi professoressa perché c'è solo un ultimo particolare sulla politica ci dice nando pagnoncelli se draghi piace o no se piace sempre lo stesso modo si draghi ha avuto un calo di consenso è stato salutato con un consenso molto elevato al momento del suo insediamento lo vediamo con il cartello 7 era un 69 per cento nel momento in cui si è insediato e anche la settimana successiva c'è un calo di 7 punti un calo che definiamo un po rimbalzo tecnico per certi versi se facciamo un confronto con con conte lo vediamo con il cartello 8 conte ha avuto una crescita significativa di consenso nel momento del picco diciamo dell'emergenza sanitaria quando gli italiani si stringono attorno alle istituzioni e abbiamo visto appunto che c'era una grande aspettativa che il governo e le istituzioni in generale presidente del consiglio ci potessero togliere da una situazione di emergenza che preoccupava e continua come abbiamo visto preoccupare molto gli italiani restano con i nostri ospiti